Si comincia a delineare sempre di più il quadro politico in vista delle prossime elezioni regionali in programma per il 10 marzo 2024. Questi però sono giorni molto caldi, in particolare per quei sindaci che hanno deciso di candidarsi. Questo perché in Abruzzo vigila legge detta antisindaci, che obbliga i primi cittadini dei centri con più di 5.000 residenti che aspirano a candidarsi alle elezioni regionali a dimettersi dalla carica 120 giorni prima del voto e al loro posto arriveranno quindi i commissari prefettizi. Per questo motivo il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha annunciato che darà le sue dimissioni di essere pronto a candidarsi tra le file del PD, quindi in appoggio di Luciano D'Amico. C'è stato un periodo di riflessione, anche di confronto con l'amministrazione, con il mio partito, i quali ringrazio davvero di cuore. Ovviamente ci saranno le dimissioni che poi in realtà è un'anticipazione perché arrivo alla fine del mio secondo mandato, quindi da qui a pochi mesi anche la nostra città tornerà alle elezioni. Ovviamente il sindaco Robert Verrocchio non è ricandidabile per via della legge e quindi comunque si tratta in realtà di un'anticipazione. Rimarrà ancora l'amministrazione per ulteriori 20 giorni, così come prevede la legge e poi ci adopereremo sul territorio per raccontare, confrontarci con i cittadini e per dare sostegno e supporto al candidato Luciano D'Amico. Dunque Verrocchio, una volta presentate le dimissioni, avrà la possibilità di procedere in maniera ufficiale alla sua candidatura. C'è una promessa che vuole fare al territorio con la sua candidatura? Sicuramente di lavorare nell'interesse del territorio. Ovviamente l'obiettivo regione è l'obiettivo più ambizioso che guarda oltre i confini di un comune ma sicuramente guardando al mio comune e al modo in cui è cresciuto, anche attraversando le varie azioni. Immaginare che queste azioni possano in qualche modo anche caratterizzare l'impegno in regione. Sicuramente la passione non è mai mancata e ci sarà in questa nuova sfida.